Una bellissima partita, una ottima prestazione tua, soprattutto a Muro. Grazie, sì. Una partita veramente incredibile per noi. E' anche importante perché abbiamo perso 5 di 6 partite qua, nell'Alliance Cloud, quindi questo è importante. Sì, io oggi mi ho sentito molto bene, felice di dare tutto quello che ho per la squadra. Adesso, felice oggi, ma domani dobbiamo pensare alla prossima partita. E la tua prima stagione in Italia come ti stai trovando? Bene, bene. Mi piace tantissimo l'Italia, anche Milano. Nei primi due o tre mesi l'adaptazione è un po'... perché è diverso, perché l'Italia, la Liga... Ma adesso mi sento molto meglio, quindi... bene, bene. Ti sembra di star crescendo? Sì, sì, sì. Anche io, anche la squadra, quindi per questo siamo felici. Stiamo allenando molto, molto bene. Penso che oggi lo abbiamo mostrato. Adesso Verona e poi dopo c'è Perugia. Eh sì, due partite molto, molto difficili. Verona di là, quindi... Io non lo so, non ho mai giocato di là, ma sicuro che loro sono forti di là, anche sempre. Giocatori molto, molto forti in attacchi. E dopo Perugia, ma adesso dobbiamo pensare in Verona. Prego.